Siamo arrivati quindi a ottenere questi biglietti 350 a disposizione per gli studenti napoletani che potranno autenticarsi, le scuole potranno fare accesso sulla pagina web del Comune di Napoli e fare richiesta di questa disponibilità che è prevista appunto dalla convenzione stipulata calcio Napoli, quindi un'occasione per far vedere il nostro Napoli agli studenti napoletani e tanti ragazzi e tanti tifosi affinché possano appassionarsi innanzitutto allo sport e quindi al calcio e tifare per i propri beniamini. Saranno dunque centinaia i bambini e i ragazzi che potranno assistere gratis allo stadio Maradona alle partite del Napoli ed esaltare così i valori sociali ed educativi dello sport. Si comincia venerdì con Napoli-Juventus. Venerdì sera allora i ragazzi dell'educativa territoriale che sono stati scelti attraverso un sorteggio dalla direzione politica e sociale saranno allo stadio a vedere Napoli-Juventus. È un risultato raggiunto con soddisfazione per il lavoro svolto in Commissione con l'aiuto e l'ausilio anche dei colleghi di altre commissioni del Consiglio Comunale. Cioè quello di far rispettare un articolo della Convenzione tra Comune e Calcio Napoli che da cinque anni languiva nell'oblio più totale. Ci siamo riusciti, siamo contenti. Riportiamo i ragazzi prima dell'educativa territoriale, delle politiche sociali allo stadio e poi i ragazzi delle scuole. Finalmente ci siamo riusciti, abbiamo questa opportunità. Riusciamo a dare questi biglietti ai tanti ragazzini e alle tante persone che seguono questi ragazzi che si occupano di disagio minorile. Una battaglia vinta, l'abbiamo portato in Consiglio Comunale all'atto della Convenzione con un emendamento, ma questo è ormai il passato. Pensiamo al presente, anzi pensiamo al futuro. Bisogna fare in modo di portare quanti più ragazzini, più ragazzi, alla scuola dello sport che nello stadio Maradona sperando di riuscire a dare e a far vivere a questi ragazzi le stesse emozioni che abbiamo vissuto noi da ragazzi. È una bella opportunità. Cogliamola al volo.